La partita però ci serve per poter andare ai playoff con una vittoria che dà morale ormai non avendo più niente da perdere andiamo la valo a spacca, non abbiamo niente da perdere proveremo a vincere su tutte e due le partite, se ce la facciamo entriamo nella storia se no, amen. Però i pronosti lasciano il tempo che trovano, perché tre anni fa con Kuno ci abbiamo sempre vinto in campionato e poi ci abbiamo perso per i playoff, quindi non vuol dire niente. È una partita secca dove hanno sicuramente loro molto più da perdere che noi. Noi andiamo là e l'importante è uscire a testa alta, poi il risultato non importa.